Come tutti gli anni, Brancatelli Group ci presenta la novità. La novità di quest'anno è l'Esedra, il nuovo sanitario Esedra, dove Arianna è comodamente seduto. Il nuovo sanitario Esedra ce l'abbiamo nel... è comodo no Arianna? È comodo? Comodissimo. Benissimo, vedrai a farlo. Abbiamo la versione sospesa e a terra l'Esedra. Va a riprendere la vecchia Esedra inventata negli anni 80 e sarà compatibile al 100% con la vecchia. Quindi possiamo togliere la vecchia e mettere la nuova. Ce l'abbiamo nella versione sospesa e a terra. La versione a terra ha anche lo scarico traslato per permettere la sostituzione anche di altri sanitari con delle bride adatte dai 50 ai 200 mm.